Salve a tutti, vorrei darvi alcuni aggiornamenti importanti sull'emergenza in atto. Ieri sera il Ministro della Salute ha emanato una nuova ordinanza che vieta tutte le attività ludiche all'aperto e limita la possibilità di fare passeggiate o corse soltanto in prossimità della propria abitazione e individualmente. Sono misure che restringono ulteriormente le attività all'aperto, ma credo necessarie perché purtroppo il contagio aumenta, come voi sapete. Nonostante che la situazione in Toscana sia sotto controllo, è difficile rallentare il ritmo di questa epidemia. Per questo molto dipende dai nostri comportamenti. Oltre a rispettare le regole ci sono anche alcuni principi di buonsenso da seguire. Ad esempio quando si va a fare la spesa, andare da soli e uscire poche volte a settimana, se non una volta a settimana, con una lista appropriatamente preparata, come consigliano anche i commercianti. Il Comune di Firenze ha anche allestito un servizio online sulla nostra rete civica dove è possibile avere tutta la mappatura dei negozi alimentari. È inutile accalcarsi nelle fasce orarie di picco, dove le attese ormai sono diventate lunghissime. Ringrazio la Polizia Municipale che da domani anche in Borghese continuerà i propri controlli sul territorio. Ci sono ancora troppe trasgressioni di persone che ad esempio frequentano i parchi e i giardini, che invece sono chiuse, o persone che girano in coppia o sono fermi in assembramento. Insomma ci sono ancora molte trasgressioni che mettono a rischio la salute di tutti e che impediscono di limitare fortemente questo contagio. Mi rivolgo anche alle aziende private. Dovete fare il massimo possibile per la salute dei vostri dipendenti, fornendo loro tutti i dispositivi che possano metterli al sicuro da qualunque contagio e aumentando al massimo, laddove è possibile, il telelavoro come abbiamo fatto anche noi con il Comune di Firenze. Continueremo a dare assistenza soprattutto agli anziani e alle persone deboli grazie alle nostre linee telefoniche dedicate. Per questo ringrazio il nostro personale che lavora nel settore socioassistenziale, così come ringrazio tutte le forze dell'ordine per l'attività sul territorio e prima di ogni cosa i nostri medici, i nostri infermieri che costituiscono la prima linea in questa battaglia. Molti ci dicono che mancano mascherine. È vero, ma ogni giorno sappiamo che dobbiamo dare la precedenza al personale medico e al personale che svolge attività socioassistenziali per i poveri senza tetto, alle polizie locali. Appena avremo quantitativi in più li daremo anche al settore privato. Tuttavia il principio e la regola è quella, come sempre, di rimanere a casa. Con il nostro comportamento possiamo dare una grande mano. Se vogliamo vincere questa battaglia tutti insieme e tutti uniti. Io confido nella collaborazione di tutti e anzi ringrazio tutte le persone che stanno facendo tanti sacrifici. Ce la faremo tutti insieme. A presto.